Il partito democratico esiste per assicurarsi che le brave persone non facciano nulla. Il motivo per cui critico così tanto democratici può essere spiegato nell'aforisma l'unica cosa necessaria per il trionfo del male è che gli uomini buoni non facciano nulla. Il partito democratico esiste per assicurarsi che le brave persone non facciano nulla. Gaza ne è un esempio perfetto. Quando la progressista Alexandria Ocasio-Cortez su Instagram promulga la sfacciata bugia che Kamala Harris sta lavorando instancabilmente per garantire un cessato il fuoco a Gaza, il risultato è che le persone che si fidano di AOC si rilasseranno e smetteranno di spingere per la fine del genocidio. La deputata che è stata pubblicizzata come la più a sinistra possibile ha detto loro che ci si può fidare e che l'attuale amministrazione si sta occupando di questo. Quindi tutto ciò che devono fare per salvare Gaza è votare per il vicepresidente a novembre. Non è neanche necessario imporre tali manipolazioni ai repubblicani che semplicemente sostengono le atrocità di Israele a Gaza perché credono che i musulmani debbano essere sterminati e perché Israele sta per addempiere una profezia biblica che riporterà in vita Gesù e manderà tutti i pagani a bruciare all'inferno. Tali manipolazioni sono necessarie solo per annullare politicamente il tipo di persone che altrimenti vedrebbero cosa sta succedendo a Gaza e sposterebbero le montagne per porre fine a questa enorme atrocità. Quindi molti dei problemi del mondo non esisterebbero se il Partito Democratico fosse semplicemente ciò che finge di essere. Se davvero si opponesse agli impulsi più malati del Partito Repubblicano, se davvero si battesse per la pace, la giustizia, l'uguaglianza e per la gente comune che lavora, le cose sarebbero irriconoscibilmente diverse non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero. Poiché le brave persone farebbero qualcosa invece di niente, il male non trionferebbe. Il Partito Democratico esiste per impedire che ciò accada. Invece di una fazione buona che si oppone a una fazione malvagia, il governo più potente e influente del mondo ha invece due fazioni malvagie che lavorano insieme per promuovere programmi malvagi. Ma ciò che lo rende così distruttivo è che non si tratta proprio di due fazioni apparentemente malvagie. C'è una fazione apparentemente malvagia e un'altra fazione che finge di stare con le brave persone contro la fazione malvagia. Se si trattasse di due fazioni apparentemente malvagie, le brave persone riconoscerebbero immediatamente che i loro obiettivi non sono rappresentati da nessuna delle due parti ed emergerebbe un vero movimento rivoluzionario. Ciò che rende il Partito Democratico uno scoop così efficace è che impedisce alle brave persone di riconoscere che chiunque abbia potere e influenza nel loro paese è il loro nemico e impedisce loro di rispondere di conseguenza. Per dieci mesi e mezzo i progressisti americani sono stati bloccati in uno stato di paralisi, con parole vuote su un cessate il fuoco e una soluzione a due stati da un partito politico che non ha mai avuto alcuna intenzione reale di realizzare nessuna di queste cose. L'amministrazione Biden è colpevole delle atrocità genocide di Israele tanto quanto il regime di Netanyahu stesso, ma rendendo omaggio a parole alle preoccupazioni umanitarie e fingendo di lavorare per la pace. Mentre regolarmente trapelano storie alla stampa su quanto Biden si è arrabbiato e severo con Netanyahu, loro sono stati in grado di lavarsi le mani nella loro colpa agli occhi dei più. Questa è stata l'unica caratteristica distintiva di questa corsa presidenziale. Non eleggere la prima donna presidente, non fermare Trump, non salvare la democrazia americana, qualunque cosa significhi. L'unica caratteristica distintiva di questa corsa presidenziale è che una delle due fazioni principali americane afferma di volere la pace e giustizia per i palestinesi, mentre sostengono un'amministrazione che li sta massacrando in un orribile genocidio. Questo è l'effetto del Partito Democratico e lo sta facendo non molto prima del 7 ottobre. Obama ha creato un'intera eredità politica tessendo razze di prosa fiorita, esprimendo profonda compassione e amore per la pace e la giustizia, mentre ha trascorso otto anni continuando a espandere tutte le politiche più depravate e omicidie del suo predecessore. Biden ha dato ai liberali di tutto il mondo occidentale un sospio di sollievo quando è entrato in carica, perché finalmente gli adulti sono tornati nella stanza e ora sta conducendo una guerra per procura in costante escalation contro una superpotenza nucleare, mentre sostiene un vero e proprio genocidio. Un impero la cui esistenza dipende da violenza infinita, oppressione e sfruttamento, in patria e all'estero, non può permettersi di avere un grande partito politico che si opponga a queste cose, quindi non lo fa. E poiché non lo fa, pur fingendo di farlo, è in grado di relegare le obiezioni a questa tirannia ai margini dei discorsi politici. Quindi critico i democratici più dei repubblicani perché loro richiedono più critiche. Che i repubblicani siano malvagi è ovvio a prima vista per chiunque abbia una coscienza. Che i democratici siano malvagi è molto meno ovvio e di solito richiede un bel po' più di consapevolezza e argomentazioni per essere compreso. L'impero ha trasformato in un'arma l'intuizione che l'unica cosa necessaria affinché il mare trionfi è che le brave persone non facciano nulla. Quindi diffondere la consapevolezza della realtà che i democratici non sono brave persone e non stanno facendo cose buone aiuta a toglier loro quell'arma. Il male continuerà a trionfare finché le brave persone continueranno a non fare nulla e le brave persone continueranno a non fare nulla finché crederanno che i loro valori e desideri siano rappresentati da un partito politico il cui unico scopo invece è garantire il trionfo del male. Infrangere questa convinzione è un passo assolutamente essenziale verso un mondo sano. Questo dovrebbe essere un obiettivo importante delle brave persone ovunque